Ciao a tutti ragazzi, per trovare la vostra lista e Volpix97, per trovare oggi sulla mod di Dark Escape di Amnesia e Dark Edition Questa porta è chiusa, quindi scendiamo le lampadine Accentiamo e vediamo cosa c'è tende, qui c'era l'area della cella 1, mettiamo una bella torcia qua E se strade sono tantissime, quindi ragazzi, ecco, qui sempre ci troviamo la lettera, questo Palazzo, ci sono dei mostri, vabbè, vabbè, ma è niente che ha portato niente di buono nella mia vita Puoi se già si sapeva Questa è chiusa pure, quindi credo che ci toccherà andare all'area della cella 1 Aspettate perché prima di andarci, prima di andarci, dobbiamo andare a vedere che cosa c'è qua Porca troia, salve, si può mettere un paio di mutantine, no? Vabbè, cioè quello camminava nudo, ma vaffanculo Allora abbiamo mensa, bottiglietta d'olio, quindi credo che prima non dovevamo farci vedere da quel pezzo di frosio bastardo Che non è altro, qui non c'è niente Qui, ecco, giustamente questo appeso qua Certo, giustamente ci devono essere uomini appesi Ecco, qui c'è un'altra orgia, che Dio vi benedica a tutti Caputana Qui cosa c'è? Ah, bellissima, sai, bella, bella Questa è se che mi va bene Vabbè, qui le chiudo e qui le lascio aperte, che senso ha? Che 2, 4 e questa è 6 Ecco, un'altra orto Questo era incatenato, non si sa neanche come ha fatto a togliessi le catene Pezzi di, di, di corpi ovunque E credo che ce ne possiamo andare Per di qua Io, cioè, io non ho una chiave Scusate, eh Cioè, ho lasciato una chiave Ah, ok, la chiave era sotto il letto, benissimo, meno male che Ce l'ho fatta subito, scelto, ok Vediamo se è questa Ma era questa, meno male che non sono andato là Quindi, beh, puro buce da cul E l'ho scoperto Aspetta, voglio fare una cosa figa Oh, ok Perché devi spegnere la tua Porca troia Fanculo, vai No, non cadere, non cadere Pezzo di merda Devi morirci male, tu e tua sorella Oh, oh, perché cazzo Ecco, cos'è che volo Ecco, appunto, morirci Ok, qui abbiamo il palangain Ok, e non ci sta niente più Ecco, ci siamo fatti male la caposcia Quindi una ferita da sanguinante Credo che sia questa Mmm, mal di testa Ti ricuro io E un'altra cosa per far andare tutto bene Così, almeno, il mio personaggio non ha Contusion Ok, lì porte non c'erano C'era quella principale Vediamo, sarà quella Vediamo, eh Questa qua No Sì, questa No, perché mi era venuto il dubbio Se in quelle di legno si poteva fare pure Si poteva stare una volta sola Quindi credo che nelle celle Ci possa andare una volta sola Ciao Piggy Bastardo quante volte che non ci vediamo Allora Piggy, tu devi metterti lì sotto Ok Ci vediamo tra poco Va bene Meno di metà olio Abbiamo la nostra di Spoxyxion Ok, questo va più che Ecco, appunto Va più che bene Ah, che bella porta dorata Dove ci porterà? Buonasera Ok Allora No, mi sono spaventato Perché ha fatto mezzo lag E quindi c'è Ho pensato che Se poteva farmi spaventare Deve disire Ok La lettera la leggiamo dopo Perché magari Che cazzo Che è un gacciavite Vabbè Ok Qui Eh 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 Bella mia A me voi fottere o mai Con l'amnesia Sono diventato forte C'è E i prigionieri vanno Che cazzo c'è scritto Va bene C'è Cosa siamo venuti a fare qua? Dobbiamo bruciare una sedia? Se bruciamo la sedia Magari è meglio Porca dix Porca puttana raga Mi avevo tagliato il pezzo Dove vado? Porca puttana Dove vado? Dove vado? Qua troia? Eh Vado qua Vado qua Vado qua Vado qua Vai chiudi 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 No qui non puoi entrare Qui non puoi entrare Qui non puoi entrare Sugga Sugga Come cazzo faccio? La puttana No Lo devo far girare in qualche modo Porca troia Figlio di puttana Deve morirci Deve morirci Figlio di puttana Porca Come cazzo? Come cazzo ha fatto ad entrare? Come cazzo è andata ad entrare? Come cazzo ha fatto ad entrare? Mannaggia la puttana Corri Shift Corri Porca troia Vai 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 Ok 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 Sugga di un bel altro troio Ma ho chiuso la porta Allora spero che non venga più Spero che sia scomparso Quel figlio di puttana Porca troia Avete visto come è bugato la porcia? Che cazzo di bug è questo? Boh Ok Nuova location Benissimo C'era Oh mio dio Qui ci saranno i pesci canniboli Se c'è l'acqua Leggero lo so Spendiamo qua Eh me la ricarico Trovo ferite le bocce Run Eh lo sapevo io Cioè raga Neanche mi spaventavo Vai No Porca troia Vai Ok Qui non lo tocco Perché altrimenti muoio Lì non si ci può andare Lì neanche Vai 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 Porca troia Vai 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 Corri Corri Come cazzo faccio Perca troia Come cazzo faccio Oh come cazzo faccio ad andare là Ok raga Qui c'è una porta L'avevo vista prima Scusatemi Scusatemi Davvero Scusatemi Ok E qui Credo che ci sarà Bellissima Sei Ecco la chiave Vai 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 E porca Beh va Vaffanculo Però male che sono coglioni Sti cazzo di pesci Ecco Vai 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 Corri 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 Non vi dico una cazzata Ma sono dovuto andare a guardare un po' Il che drog Perché non capivo dove Cioè Non l'avevo vista almeno Almeno Cioè Oh Vai Ok Ma non mi inseguono più Vabbè Ci saranno buggate Perché ho fatto tante volte indietro Avanti e indietro Ok Vediamo Ma ancora non è Ah io dovevo Cioè pensavo che c'era qualche filmato Qualche cosa Ok E per l'appunto sono andato a guardare questo world troppo Perché non potevo continuare Adesso qui ci sono tre porte Ma Quel world troppo che mi sono visto C'era messo Che era la fine Non me lo sono visto tutto Mi sono visto solamente questa parte Magari c'è Per non creare altre cose E Voglio andare a vedere Qua Non si può fare Qua Non si può fare E noi ce ne ritorniamo Qua La strada mi sembra troppo lunga E E vabbè Boccetta E vabbè Ok Ho deciso La chiave della decisione Vediamo se Va qua Oggi le azzeco tutte E Aspetta Prima di andare qua Voglio andare a vedere un'altra cosa Perché magari la storia ancora continua L'altro pochino Ah vabbè Questa è chiusa Ah quindi magari O lì o là Dovevo andare Vediamo Quale abbiamo scelto noi Io penso che sia così Tipo Potevi decidere Quale porte aprire Vediamo eh Vediamo Dopo ci porterà Che dark escape Ok Continuiamo ancora Ste porte Cioè per me Sono troppo Cioè Ste location Sono troppo grandi Per me Non c'è niente Eh ce l'ho dietro Ma mannaggia la puttana Mannaggia la puttana Raga Guarda quale cazzo è la porta Quale cazzo è la porta adesso Oh no Non ce ne Porca troia C'era la botola Per uscire Mannaggia la puttana Ma perché Perché cazzo Devono uscire solo A me ste cose Ok Vai eh Io spero che non ricompaia Ti prego Fai che non ricompaia Perché le Cioè Perché le porte Sono tutte rotte Cioè nel senso Vediamo Devo vedere l'inventario Non si può vedere l'inventario Ok Porca troia Come sei morto male Scusa Beh poi c'è anche il pisallon Vabbè You did good Tu stai bene Che cazzo significa raga Scusatemi Cioè se non so l'inglese Porca troia Mi son fatto male le gambe Mannaggia la puttana Tutta a me devono succedere Ok Apriamolo Vai 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 Ok Ah vero io che ce l'ho boccettato io Ok vai Ok E cosa Ci dovrei Fare qua Ok C'è un'altra lettera Per farlo ricordati Che tu Adesso stai per lasciare Tutto quel che vuoi Questo Non c'è niente Vale Vabbè Non c'è niente Quindi Sì Ce l'abbiamo fatta Raga Siamo usciti Non ci credo Siamo usciti Ma ve lo state dicendo Ok ragazzi Sono ritornato dopo 10 minuti Mi sono andato a guardare un altro walkthrough In pratica devo passare solamente in mezzo qua E ho finito la mod Ok Basta Questo è Ci sono due finali E cazzo di musica Ci sono due Ah qualora No pulite la coperetta Queste No Questa è remixata Adora no Non lo so Comunque Ci sono due finali Questo è quello buono E farò anche quello che attivano Ci vediamo Perché ho salvato la partita qua Quindi penso che non ci possa fare Comunque Proverò a ritornare indietro A vedere se si può fare Il finale Quello che attivò Questo era quello buono Quindi grazie a tutto per aver seguito Questa mod E ne farò altre Come sempre Non vi preoccupate Aspettatevi tutto Dal vostro MrVolpix97 E niente ragazzi Se la mod vi è piaciuta Se il video vi è piaciuto Invite a lasciare un bel mi piace Commentare Iscrivervi E noi ci vediamo sempre Dal vostro video Dal vostro MrVolpix97 Ehm Niente Ciao ragazzi Al prossimo video Aspettatevi Se ci riesco sempre La Il finale cattivo Bella Vi lascio il titolo di coda Bella bella vabbè questo non c'è ci voleva una bella ballata bella